Come scalare velocemente nelle nuovissime modalità 5 vs 5 di Brawl Stars Ciao ragazzi sono Vapor e oggi vi vado a spiegare velocemente come funziona le modalità 5 vs 5 Quando sono iniziate fino a quando ci saranno, come funziona tutta la rotazione Insomma, ieri le ho provate e mi sono divertito un sacco Quindi, come al solito, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella Se vi piacciono questi contenuti, ti ricordo che qua sotto trovi il mio canale Twitch Dove streamo quotidianamente anche su Brawl Stars e anche su TikTok Quindi tutti i link qua sotto per andarmi a seguire Qua nelle schede cliccabili trovi tutti i video precedenti Insomma, iscriviti e attiva la campanella per restare aggiornato al giorno sul vapore Adesso, Brawl Stars, bello fresco, bello caldo, 490 coppe con tic 39.510 in generale Regali fotonici, dodicesimo giorno, tredicesimo giorno Perché c'è la vigilia, poi il Natale, insomma Le Brawl Days, come al solito, si rivelano essere fondamentali ed interessantissime Per continuare a scalare il nostro profilo Oggi sono roteate with Brawl Ball ogni settimana le missioni E la mappa di oggi è la Onde Polari Ok, ieri era una mappa diversa Una mappa con il ghiaccio centrale Un po' particolare, devo dire anche la verità Un po' infamotta Un po' infamotta Giochiamo con tic perché la devo recuperare a 500 E vi spiego cosa bisogna andare a capire di queste modalità 5 vs 5 Che cosa effettivamente poi cambia dalle modalità 3 vs 3 Ma partendo subito col fulcro del video La differenza principale per quanto mi riguarda è il tiro e la parata Il tiro e la parata cambiano drasticamente Perché se uno prima non faceva tanta attenzione a quella che era la propria porta Ora diventa fondamentale Perché la porta è molto più ampia E allo stesso tempo appunto una porta più ampia porta a due grandi cose diverse Una, una maggior difficoltà nel parare la porta E quindi di parare la palla e di non farla entrare Di non subire proprio gol dagli avversari L'altra, come vedete in questo caso È la difficoltà di andare a parare appunto i tiri Quindi consiglio principale è tenere sempre dei brawler Almeno quello che ho visto io Che può funzionare un pochetto di più Tenere dei brawler che Nei quali sostanzialmente la capacità di murare Di coprire la porta è maggiore Quindi io ad esempio devo dire che mi sono trovato molto bene Nell'andare ad utilizzare brawler come Semino per esempio Nei quali Il quale appunto attraverso il muro Può impegnare meno tempo davanti alla propria porta E allo stesso tempo ottenere un ottimo risultato Devo dire la verità C'è un'altra grande differenza Che forse ho notato Non hanno notato tutti Ma la palla quando si avvicina il più possibile alla porta Si tenta a farsi una spinta automatica da solo Non ho ben capito come Ed entra in porta Cioè è più difficile fermare la palla davanti alla linea Anche se mi è già capitato E ragazzi non sto dicendo che Non sia assolutamente possibile Fermarsi davanti alla porta Ma può succedere Ma allo stesso tempo è un po' più complicato Quindi fate molta molta attenzione Come avete visto in questo caso La partita è finita in maniera abbastanza frequente E abbastanza veloce Una partita dove Sì abbiamo preso gol Ma poi abbiamo recuperato alla grande E dove avete visto come sono fondamentali Brawler come Tic Ragazzi Tic qua è fondamentale Perché Essendo 5 vs 5 Una squadra solitamente non gioca nelle lane Gioca tutti assieme E quindi facendo danni a zona Come Tic Riesci veramente a cumulare Una quantità Un quantitativo di danno Molto molto importante Quindi il mio consiglio personale È mettere brawler anche che zonano Sicuramente C'è uno studio di Eventualmente Delle Modalità E delle comp Da andare ad utilizzare Vi chiedo gentilmente Però di Di Maneggiare con cautela Queste informazioni Che vi do Perché poi dipende molto Dal proprio stile di gioco E E tutto naturalmente Quello che ne consegue Io devo dire la verità Sono È una modalità Che mi piace Partendo dal presupposto Che hanno iniziato alla grande Perché hanno inserito Penso una delle modalità Più famose Di Di Brawl Stars Che è la footbrawl Perché Ragazzi come sapete In Italia Soprattutto Per il calcio Noi andiamo pazzi E di conseguenza Siamo completamente pazzi Per la footbrawl Almeno per quanto mi riguarda Io Gioco sempre E Quasi solo la footbrawl Le 19.000 E passa Win che ho fatto In 3 vs 3 Sono tutte Iderenti A vittorie Fatte su Footbrawl Molto molto interessante E comunque Il fatto che Si possano rompere I cespugli Ci siano dei Anche Come si può dire Degli ostacoli Un po' più grandi Perché comunque Parliamoci chiaro Mettono delle pietre Molto molto più grande Rispetto a quelle Delle 3 vs 3 Ma è tutto un po' Proporzionato Devo dire la verità E ci sta E lo apprezzo Vedete in questo caso Però come L'importanza Del saper parare Essendo Il gioco Non più in verticale Ma in orizzontale È fondamentale Quindi Una volta per parare Ci spostava Destra e sinistra Bene Adesso devi spostarti Su giù per parare Ed è una cosa importante Da capire Una meccanica Fondamentale Devo dire la verità Però con le win streak Come vi ho detto Si può scalare Molto più rapidamente Tutto quello che ne consegue Una differenza Che ho notato Abbastanza sostanziale E grande È il fatto che Appunto Si interessante Le win streak Si può scalare Fai quello Quell'altro Ma è fondamentale Avere sempre Una buona compa Nelle 5 vs 5 Le partite Sono abbastanza Facili da vincere Secondo me Se uno Ha un minimo di idee La vince tranquillamente È logico Che se poi Dopo ti trovi Dei compagni Particolarmente Non in gamba E con magari Anche un matchup Che non è Uno dei migliori Perché può capitare Ragazzi Cioè Parliamoci chiari È risaputo Il fatto che Ad esempio In questo caso Io potevo far gol Sono stato zitto Perché potevo far gol Ho fatto forse Un errore tecnico Ma è un errore Di lettura mio Potevo far gol Ma Ho ciccato Un attimo Il tempo Esatto Però sostanzialmente Si può effettuare Delle partite Molto molto interessanti Riguardo Al vapor Inerente Brawl Stars Generale Mi avete chiesto In tanti vapor Hai un clan Ho visto Come si chiama Come si fa ad entrare Ve lo faccio vedere subito Perché è un clan Nel quale Noi giochiamo Particolarmente Tanto Ed è un clan Interessante Proprio per una crescita Personale Attualmente Le coppe richieste Per entrare Sono un po' altine Sono 35.000 Ma vi posso assicurare Sono giustificate I posti liberi Solitamente Sono sempre due Quindi è richiesta Una frequenza Di gioco Particolarmente Alta Tra virgolette Io lo gestisco Personalmente Io Insieme ad un altro Mio abbonato L'obiettivo è quello Di scalare Arrivare al più alti Possibile In classifica Cosa che pian piano Andremo a fare Ricordo sempre Che quando vedete Negozio gratuita Sono due le cose Da riscuotere Oltre al regalo C'è il solito Il solito regalo Del giorno Ad esempio In questo caso Bingo Mi sbombarda 300 punti Potenziamento Che sinceramente Mi fanno Alquanto bene Perché ero un po' A secco Come sapete Ho dovuto fare Un potenziamento Generale Del mio livello Di brawler Li ho portati Tutti al livello 9 Con annesse Star power Comprate Pian piano Li farò tutti A livello 10 L'obiettivo Sarà poi Arrivare Ad un elite Di livelli 11 Ad un plateau Di livelli 11 Che naturalmente Richiede una quantitativa Di potenziamenti E monete Molto più Elevato Detto questo Vi odio Penso che sia finito Qua Vi volevo soltanto Far vedere Ancora Un'ultima informazione Per essere completi 5 vs 5 Starts Today Come avete letto Qua Sroteano 5 vs 5 Game Mods Ogni weekend Quindi nel weekend Ragazzi Venerdì Sabato Domenica Cambiano E fino al prossimo Update release Quindi penso Fino a marzo Insomma Ragazzi Come sapete Il video termina qua Seguitemi su Twitch e TikTok Link sotto in descrizione Iscrivetevi Ragazzi Al canale Per non perdere I prossimi contenuti Qua ne puoi trovare due Che sono molto interessanti